Appena partiti dall'autogrill Poppa Roberto Su richiesta a chi vuole l'acqua naturale gasata Vi la casa al Duca privatamente A leggere la gazzetta, non so, si va al museo dell'Alpa e leggono la gazzetta Adesso andiamo a prendere quel cibo Guardate il Duca La dietro è buono il salame? E' buono? Qua tra i polpa che merita E' buono il salame la dietro? E' buono? Lo trovi su un po' Gianni Lanta è la bocca così piena di salame che non parli, fai schifo Qua osano proporre delle fieste, chi le vuole? Le bruciamo, quelle della porta Bravi bravi, viva il salame Fiesta, fiesta Per me una fiesta anche per Roby Anche per me Basta le fiesta Dua fiesta Dua fiesta Dua fiesta Dua fiesta Dua Mi si è più bello Saluta Ciao 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 Gianni c'è limite di 2,40 Viva la nuova Alla via su sto tratto qua Di autostrada Di più non fa C'è limite di 2,40 Di più non fai Dopo ti segna e ti fai la fotografia Va bene Se fai a 2,45 ti fai la fotografia Ah guarda io vado a tutta la traccia C'entra qui Non me ne frega nient'a Vai Vai Eeeh E per l'alfa i pim URAAAA URAAAA CHICIP C'è la copra Ci si fa quello di schiacciato In questo paio si vede che l'hai parte l'Ostbale Ha fatto un pozo E fa portare a grandmother Se spioc 30 Ci sono fatto un pozo lui era il mio amico, il senzio della strada. Praticamente c'era la polizia e ci ha dato il poliziotto e gli ho chiesto, ma guarda. Avevo sapendo che lui mi chiesto, ma lui mi a fare il nostro canale. Grazie a tutti